La visita ad Arezzo del ministro Galletti è servita anche per far conoscere il nuovo progetto politico di Centristi per l'Europa, il movimento che fa capo all'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, che fin dall'inizio ha tenuto a precisare che non vuole nuovi incarichi personali. Si tratta forse dell'ennesimo tentativo di ricreare una sorta di nuova democrazia cristiana nato da una costola dell'Udc. Molte le vecchie glorie all'interno e le battaglie di sempre. Oggi in Italia c'è bisogno di responsabilità, non abbiamo bisogno di chi dice che va tutto bene e non abbiamo bisogno di chi dice che ormai il Paese è sfasciato. Noi ci poniamo invece con molta responsabilità al centro dello schieramento politico, considerando che l'Europa non è il problema dell'Italia ma è la soluzione, l'Europa cambiata, un'Europa più solidale, più vicino ai Paesi, più vicino ai cittadini. Non ci rassegniamo al reddito di cittadinanza, abbiamo la speranza invece del quotiente familiare, puntiamo sulle famiglie italiane, puntiamo alla protezione delle fasce della popolazione più deboli, puntiamo ad avere, lo dico per il mio settore, un ambiente amico dello sviluppo e non all'ambiente sempre dei no. Questo è il vero pericolo del nostro Paese, abbandonarci all'antipolitica e alle scelte di pancia. Quelle ricette sono ricette irrealizzabili che porterebbero il Paese veramente allo sfascio e noi crediamo invece che ci sia oggi ancora tutto lo spazio per fare di questo Paese un grande Paese europeo, un grande Paese economicamente forte, un grande Paese solidale.